Torniamo a parlare di barriere architettoniche con Ilaria Bidini, dal suo blog ha lanciato un messaggio, un appello insomma molto chiaro a chi anche amministra Rezzo, cioè provare per un giorno ma anche solo un giorno magari a cosa vuol dire spostarsi in una sedia a cotelle. Sì, mi è venuta in mente questa cosa perché prima cosa ho visto che in tante città lo hanno fatto e secondo me è una cosa carina appunto per testare con mano che cosa vuol dire tutti i giorni in coro nelle barriere architettoniche. Ti aspetti una risposta dal sindaco o da altri esponenti della giunta? Io l'invito diciamo che è aperto un po' a tutti però principalmente alla giunta comunale soprattutto al sindaco. Io spero che accolga la mia idea anche perché almeno potrà vedere con i suoi stessi occhi diciamo con la sua stessa pelle quanto è difficile spostarsi in carrozzina. Secondo me forse è l'unico modo questo per capire veramente queste difficoltà. Sono più nel pubblico, cioè nelle strade oppure più negli esercizi commerciali dove tu in molti, tu e le persone che si trovavano in condizioni similari alle tue, non puoi entrare, non potete entrare perché ci sono le barriere, gli scalini. Eh diciamo che più che altro sono nei locali pubblici, bar, ristoranti, farmacie che secondo me è molto grave però anche i marciapiedi, ho visto che ora hanno rifatto i marciapiedi lì a Guidomona come mi sembra, però la situazione delle barriere architettoniche non è cambiata. Cioè è inutile che fate il marciapiede bellino tutto liscio però c'è lo scalino e non si può entrare. Ma io caro sindaco se lei ne ha voglia spero che questa idea le piaccia, io la invito appunto a provare almeno per un giorno cosa si prova a girare con una carrozzina. Sono d'accordo, faremo una passeggiata insieme, dovrò farmi accompagnare necessariamente dall'assessore ai lavori pubblici e alla manutenzione perché molte delle richieste che sicuramente verranno fuori in questa passeggiata, la quale mi rendo disponibile fin da ora, probabilmente sono già risolte a livello progettuale perché l'intenzione dell'amministrazione è quella comunque di dare risposta a chi si deve muovere attraverso non le proprie gambe ma attraverso un mezzo a ruote. Però non ne conosco i dettagli quindi magari si può fare, ripeto, sta passeggiata insieme con l'assessore Gammurini e magari anche con l'assessore Tanti che è l'assessore al sociale. Una cosa è certa, l'amministrazione su questo ha già messo a bilancio delle risorse. Ripeto, non so al momento allocate dove ma l'intenzione è quella di risolvere questi problemi. Magari l'area ci potrebbe dare, e lo potremmo fare insieme sicuramente, non solo un elenco ma soprattutto una serie di priorità. Quali sono quelle che sono ritenute prioritarie rispetto ad altre e che questo riguarda il pubblico e il privato ha poca importanza. Per il pubblico ovviamente si fa carico sia di competenza che comune. Per il privato si possono fare delle raccomandazioni, ad esempio l'associazione di categoria, perché a volte ci può essere la difficoltà ad entrare in un negozio, entrare in un pubblico esercizio. E allora si può fare fronte comune e cercare di convincere tutti che è opportuno investire su questa accessibilità tutt'oggi purtroppo negata in molte situazioni.